Per il caso dei trasporti pubblici abruzzesi i sindacati si interrogano su quello che è stato un nuovo taglio da parte del governo, sono 10 milioni in meno rispetto all'anno precedente ma i parametri sono sempre gli stessi. Il dubbio è, riuscirà l'Abruzzo a garantire e a recuperare il terreno perso? Da mesi e anni io vado predicando la necessità di fare le riforme perché prima o poi sarebbe arrivato ciò che è arrivato. Quando acceleravo sulla società unica dei trasporti, quando mettevo mano alla riforma delle tariffe purtroppo all'insù o del taglio ai costi, sapevo esattamente cosa stava accadendo. 8 milioni derivano dalle penalità, cioè dalla multa perché il sistema negli anni 2012-2014 non era capace e non è ancora capace di garantire un rapporto ricavi-costi come stabilisce la legge. Cioè i ricavi da traffico, abbonamenti e biglietti devono remunerare almeno il 35% dei costi, altrimenti c'è la multa. A questo si aggiunge 2 milioni di euro di penalità. Io sto lavorando adesso con l'assessorato al bilancio per verificare la possibilità da qui a dicembre con una o più variazioni di bilancio dell'impinguare il più possibile il capitolo, ma dobbiamo andare avanti per i prossimi anni nelle ulteriori riforme. Gli studenti chiaramente chiedono la gratuità. Ho spiegato loro che è impossibile per le ragioni appena dette. In futuro noi possiamo immaginare, man mano che recuperiamo risorse, di metterle sempre più per forme di agevolazione per gli studenti, ma non solo. Penso anche alle famiglie che hanno un reddito, diciamo, anche oltre i 15 mila euro famoso di ISEI, però hanno più figli a carico o loro stessi vanno al lavoro con un mezzo pubblico, quindi altre forme di agevolazione. Intanto, tra qualche settimana, spero di poter annunciare all'Abruzzo qualche migliaia di ragazzi non pagheranno per quest'anno l'abbonamento.